Dunque, vediamo un po' chi è questo Ferdinando Imposimato. Nasce nel 1936, magistrato politico e avvocato italiano. È presidente onorario aggiunto della Suprema Corte di Cassazione. Si è occupato delle lotte alla mafia, alla camorra e al terrorismo. È stato giudice istruttore dei più importanti casi di terrorismo, tra cui il rapimento di Aldo Moro, l'attentato a Papa Giovanni Paolo II, l'omicidio del vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, Vittorio Bachelet, e di giudici Riccardo Palma e Girolamo Tartaglione. Si occupa anche della difesa dei diritti umani. Insomma, un personaggino. Si laurea nel 1959, diventa vicecommissario di polizia, nel 1964 diventa magistrato. Quale giudice istruttore istruisce alcuni dei più importanti casi di terrorismo, tra cui il processo Aldo Moro, l'attentato al Papa, l'omicidio Bachelet e la strage di Piazza Nicosia. È lo scopitore della pista bulgara delle connessioni internazionali al terrorismo. È il primo a parlare della connessione del terrorismo italiano con i servizi segreti israeliani e della presenza del caso Moro del KGB. Si occupa di processi contro mafia e camorra. Tra gli altri si istruisce il caso di Michele Sindona e il banchiere siciliano legato a Cosa Nostra, accusato di bancarotta fraudolenta per il fallimento di banca italiana e straniere. Nell'81 istruisce il processo alla banda della Magliana, un'agenzia criminale legata a Cosa Nostra, terrorismo ad alti prelati, a finanzieri, a usurai, costruttori, a politici e amministratori. Insomma, un gruppettino di educande. Il fratello Franco viene ucciso per una vendetta trasversale. Nell'84 viene disegnato come rappresentante dell'Italia a Strasburgo per i problemi del terrorismo internazionale. Nell'86, dopo le continue minacce di Cosa Nostra, gli lascia la magistratura. Diviene consulente legale alle Nazioni Unite nella lotta alla droga. Prepara per conto delle Nazioni Unite diversi programmi di addestramento dei giudici colombiani, boliviani, peruviani e equadoriani. Ad un programma che si svolge in Italia partecipano tra gli altri Falcone, De Gennaro, Priore, Caselli e il generale dei Carabiani, Mario Mori. Si occupa di diritti umani e dei principi del giusto processo in America Latina. Nell'87, come indipendente di sinistra, Imposimato viene eletto al Senato della Repubblica e nel 1992 alla Camera dei Deputati. E' membro della Commissione Antimafia. Presenta numerosi linei di legge sulla riforma dei servizi segreti, sugli appalti, sui trapianti, sui castili di persona, quindi di terrorismo e di associazione. E' stato membro della Suprema Corte di Cassazione e dove raggiunge il grado di presidente onorario e aggiunto della Suprema Corte. Insomma, qualcosina ha studiato questo Imposimato. E come parte finale giungerei amico fraterno di Federico Fellini, il quale Federico Fellini gli propone di scrivere soggetti cinematografici su temi giudiziari, ma il progetto non va a termine per la morte del regista. Bene, sentiamo cosa da dire Imposimato su il gruppo Bilderberg. Quindi il gruppo Bilderberg, bisogna vedere che scrive questo documento importantissimo che io ho citato, tra virgolette, beh, dice che è uno dei responsabili della strategia dell'attenzione e quindi anche delle stragi, il gruppo Bilderberg, responsabile delle stragi. Oggi ci troviamo personaggi del governo, vicini al governo e all'imprenditoria. Personaggi del governo dell'imprenditoria fanno parte del gruppo Bilderberg. Vediamo un po', sta uscendo un libro che si chiama Club Bilderberg, l'anticipazione. Autore Domenico Moro, editore Aliberti. Qua dice, il terzo paese in assoluto e primo paese europeo con l'esclusione della Gran Bretagna è sorprendentemente l'Italia, che è stata presente nei vari direttivi del Bilderberg con 11 personalità, 8,1%, sono limitata dalla Germania, Francia e Danimarca. La forte presenza numerica italiana e le personalità di spicco assoluto dei membri italiani dello Steering Committee sta a dimostrare il consistente impegno italiano della storia dell'organizzazione. La composizione del gruppo italiano vede la prevalenza di personalità proveniente dalla burocrazia economica e politica internazionale. Quasi sempre si registra un intreccio tra i due ambiti. La grande industria della burocrazia internazionale. Si nota che ben 7 su 11 degli italiani che hanno fatto parte dello Steering Committee della storia del Bilderberg sono stati legati, seppur in modalità diversa, al gruppo Fiat. Poi c'è il nome di Barnabé, Renato Ruggero, Tommaso Padoa Schioppa e Compagnia Cantante. E si parla anche di Monti. Addirittura anche Grillo osa parlare del Bilderberg. E ci dice che la Bonino e Monti hanno fatto parte del gruppo Bilderberg. Infatti la Bonino dopo averne fatto parte è diventato commissario europeo e Monti dopo averne fatto parte è diventato presidente del Consiglio. Ma c'è un altro personaggio che ha fatto parte del Bilderberg, tale Enrico Letta, che prosegue con le varie tradizioni italiane di famiglia, dato che è nipote del bacio resto di Berlusconi, e prosegue la tradizione per esempio della famiglia Berlinguer-Cossiga. Ma che ha fatto Letta? Letta risulta aver partecipato anche lui nel 2012 al gruppo Bilderberg. Quindi, guarda caso, come la Bonino e come Monti, un anno dopo aver partecipato spicca al volo. E oggi, primo di maggio, quindi possiamo dire che le tradizioni di famiglia in Italia continuano nel nome del Bilderberg. Vediamo che è successo il primo maggio nella storia. Nel 2011, Giovanni Paolo II viene proclamato beato. Nel 2004, nell'Unione Europea entrano a fare parte di 19 paesi. Nel 2003, il presidente degli Stati Uniti dichiara la fine della guerra del Golfo. Salendo, salendo... Nel 1945, il cancelliere del Terzo Reich, Joseph Goebb, si suicida insieme alla moglie nel bunker della cancelleria di Berlino. Nel 1941, la Germania attacca Tobruk. E sempre nel 1941, New York, prima del film, quarto potere di Orson Welles. Nel 31 è inaugurato l'Empire State Building. Ah, dimenticavamo la strage di Portella della Ginestra nel 1947, dove vengono assassinate 11 persone, ferite 27. Ma salendo, salendo, nel 1776, abbiamo la fondazione degli Illuminati di Baviera. Insomma, oggi, altro che festa dei lavoratori, oggi è la festa dei massoni e di tutte quelle sette segrete che adorano adornarsi di questi rituali, di questi ridicoli rituali legati anche a queste date, come è il primo di maggio.